Oggi parliamo di Triple H in qualità di leader del team creativo della WWE. Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like al video e a seguire il canale, se già non lo state facendo e siete in tanti, dai forza, fate crescere un attimo i numeri. Allora, da quando Triple H è diventato sostanzialmente il capo sceneggiatore della WWE e soprattutto dopo che l'influenza esterna di Vince McMahon è stata del tutto cancellata dalla nascita della TKO, per il re dei re si sono letti in giro quasi solo complimenti e post di alleluia. Ma è tutto oro quello che luccica? Secondo me no, ma mettiamo in chiaro una cosa, un punto fermo. Scrivere degli show in continuità è estremamente difficile, soprattutto se durante l'anno ti fermi giusto per una settimana e hai le scadenze incombenti e tassative dei Premium Live Event. Essere il cervello che sovraintende tutto, dunque, è un compito complesso che non ha pari al mondo, non ci sono lavori uguali e per il quale non esiste una scuola, un'accademia o un'università. Impari sul campo, provando, fallendo, attingendo ovviamente al passato, quindi a quello che ha già funzionato e un po' rischiando. Insomma, ti muovi a volte al buio, con la luce della candela, delle tue intuizioni, ma non sai quanto durerà, non sai quanta luminosità saprà donarti. E a volte, paradossalmente, lo dico quasi contrariamente ai miei principi, la miglior scelta è quella banale, è quella semplice, di gestione, di normale amministrazione senza strafare. Ecco, questo 2023 attrazione Triple H potremmo definirlo come quello della burocrazia timida ma sicura. Sembrano termini in contraddizione, ma una burocrazia timida ma sicura che ha ben nascosto la polvere sotto al tappeto e con qualche abile mossa più di mercato che d'altro ha fatto sembrare che ci fosse il tocco di remida anche quando ciò era assente. Merito di un sapersi vendere bene e di una propaganda web che ha sempre suonato il tamburo a festa ogni volta che Triple H ha fatto o detto qualcosa. Tuttavia, entriamo in una fase più concreta. Alla fine, quali sono le grandi storie che la WWE ci ha regalato negli scorsi 12 mesi? restando ovviamente ancorati a quanto accade nel ring, io ho provato a scrivermele qua a schermo, quindi ve le leggo. E abbiamo il tentativo di Cody Rhodes di terminare la storia, poi fallito a WrestleMania. È stato bello accompagnarlo durante il percorso. Poi la redenzione di Sami Zayn che perde a casa sua e poi vince i titoli tech team allo showcase degli immortali con Kevin Owens, l'amico nemico di una vita, qui roba da dieci lode. Andiamo avanti, c'è stato lo stradominio di Günther che non è in realtà una storyline nel vero senso del termine ma una risultante del wrestling di tipo sportivo che a Triple H sembra piacere molto. Ci sono state le crepe nella bloodline con i fili delle vicende che però si sono persi parecchio nel momento in cui Jimmy Uso, dopo aver guidato la rivoluzione, è tornato schiavo di Roman Reigns con una girandola di eventi un pochino raffazzonati. E per finire, le crude verità di Drew McIntyre. E anche qua siamo ad uno storytelling sublime. Il corazziere scozzese non vincerà, probabilmente chissà quali premi di fine anno, oscurato dai più recenti rientri, ma ha fatto delle cose pazzesche, sia nel quadrato che al microfono. E basta, queste sono le grandi storie, i grandi archi narrativi, per me, della WWE del 2023. Certo, ci sono diverse vicende di secondo piano, che magari meritano una nomination, ma che per vari motivi non fanno l'ultimo scalino. Ad esempio, la rivalità padre-figlio tra Rey e Dominic, oppure Tristratus contro Becky Lynch in una battaglia generazionale, o ancora Seth Rollins contro Finn Balor, che improvvisamente tira fuori una vendetta vecchia di tanti anni, o lo stesso Seth Rollins contro Shinzuke Nakamura, che ha scoperto il suo punto debole, o le damage control, che scoppiano, anzi no, forse no, poi ancora sì, e ci aggiungerei pure Edge e Bat Phoenix contro il Judgment Day. E mi fermo qui. È possibile che dimentichi qualcosa, ma sto considerando solo le storie con un minimo di ragione, di logica e di match a sostegno. Ecco, non so a voi, ma a me in 12 mesi sembra poco. O magari sono uno che pretende troppo. Può essere, ma il resto mi è parso un costante guadagnare tempo in vista della nuova corsa verso Vrestelmania, con la divisione femminile nella sua interezza praticamente paralizzata in uno stagno profondo. Sì, c'è stato qualche acuto con Becky Lynch, campionessa di NXT, ma anche lì, storia a livello sportivo. Do occasioni a ragazze nuove, ma niente di aggiuntivo. Oppure ancora Damien Priest, con la sua valigetta del Money in the Bank, a muoversi, a volte senza costrutto, evidenziando completi blackout di sinergie all'interno del Judgment Day, cosa che ancora adesso emerge con una certa continuità. Insomma, a salvare AAA in questo 2023, se dobbiamo andare ai minimi termini, come in una equazione matematica, sono stati, forse per lo più, i grandi ritorni, come quelli recenti di CM Punk, subito protagonista con Seth Rollins e di Randy Orton, ma anche quello di Cody Rhodes, che rientra alla Rumble dopo l'infortunio al pettorale, o i match-evento creati con Trish, con Brock Lesnar, con Edge, con Logan Paul e con John Cena. La sua proposta narrativa ha vissuto praticamente in larghissima parte di questo. Non dei regular, certo anche di loro, ma dell'eccezionalità di chi c'è poco, di chi combatte con una frequenza nei main roster ridotta. E aggiungiamo al gruppo ovviamente anche il capo tribù, Roman Reigns. In aggiunta a ciò, secondo me, Triple H ha evidenziato, come già faceva a NXT, anche due abitudini perduranti. La prima è che tende a proteggere chi perde in maniera fortissima. C'è sempre un alibi, o quasi sempre, ovviamente. E questo spesso dà la sensazione che tante rivalità terminino senza un vero vincitore. Sì, ce l'ha fatta lui, ma insomma, c'è un paracadute un po' troppo presente. E la seconda delle abitudini è, ve l'ho già detto in passato, è che tra tornei e seconde occasioni non importa il tuo record, il tuo ruolino di marcia, se di recente hai vinto o perso tanto. Quello che conta è che sei sempre ad un match di distanza da un'opportunità titolata, il che a volte è divertente, è intrigante, piace, altre è un po' discutibile, perché appiattisce in realtà verso il basso e non verso l'alto e poi se mi proponi il wrestling a livello sportivo e beh, allora lì i risultati devono fare la parte del leone. È nel wrestling narrativo invece quello in cui, è il wrestling narrativo quello in cui hai delle scorciatoie e delle scappatoie per dargli meno peso. E quindi facendo la somma, come giudico questo suo 2023 al timone del comparto creativo? Beh, Tripoletsch è stato sicuramente furbo e astuto e con uno sforzo per me tutto sommato minimo e con rischi o azzardi quasi pari a zero ha dato alla maggioranza di chi guarda la sensazione di aver smosso mari e monti. Quindi analiticamente direi da nove perché quello che conta è sempre la percezione che dai di te. E se andiamo a vedere su questo stesso spazio YouTube ad esempio i voti che voi avete dato ai premium live event dell'anno ce n'è solo uno insufficiente e quindi in qualche modo ha fatto centro perché nelle annate precedenti erano sempre due tre a volte anche quattro o cinque e a favore di Tripoletsch c'è anche il fatto che ora i pianeti si sono addirittura allineati affinché ci possa essere una Vrestelmania tra le più elettriche degli ultimi anni e quindi si tende a maggiorargli sulla fiducia la pagella da un punto di vista più soggettivo quindi usciamo dall'analitico e forse anche meno obiettivo beh allora lì si raschia probabilmente una sufficienza risicata più che altro perché la mia sensazione è che sia stato ottimo nel dare un vestito cosmetico alla WWE un'immagine un carattere comunque una filosofia ma il cambiamento soprattutto negli show settimanali ha dato voglia perlomeno a me ha rinnovato la voglia di viverli però per parafrasare un titolo di un film poi sotto quegli indumenti così ben confezionati beh tante volte ci ho trovato meno di ciò che mi aspettavo oppure meno di ciò che mi era stato fatto sognare e voi siete d'accordo con quanto vi ho detto beh ora la palla passa nel vostro campo e ditemi cosa ne pensate qui sotto con dita roventi nello spazio dei commenti di Grazie a tutti.